Questo che fa il difensore, che anticipa quello che succede nei prossimi secondi, è complicato, non è così facile. Per me la Lazio è stata un po' il tutto, è stata la squadra del cuore, la squadra che ho tifato quando ero piccolo. Io nasco come ala, poi è arrivato un allenatore, è arrivato Zeman alla Lazio, mi ha provato una volta da centrale, io non ci avevo mai giocato come centrale di difesa, e mi ha detto tu giochi qua, tu sarai il titolare della Lazio. Io avevo 19 anni, 18 anni, ma non dormivo la notte perché adesso però mi ha cambiato la vita. Eravamo una squadra giovane, un po' inesperta, ma avevamo tanto tanto talento. Mihajlovic, Nedved, Veron, Simeone. Noi iniziamo a avvertire che avevamo l'obbligo di provare a vincere. Abbiamo vinto la Coppa Italia, il campionato, la Supercoppa Europea, poi personalmente abbiamo vinto il miglior difensore italiano e credo che quella lì sia stata la stagione più importante del club. Tutto è possibile quando hai il migliorino italiano nella tua squadra, Alessandro Nesta.